E quindi noi ci vediamo settimana prossima con il prossimo video Un saluto da ErenBlaze, ciao a tutti Giuliano, anche questa mod review è andata Che te ne pare? Ti è piaciuta? Sì, ma sono stanco di queste scenette E lo so Giuliano, possono essere un po' omiglianti certe volte per te Ma devi capire che sono importanti Vieni, avvicinati, ti dirò un segreto su queste scenette Di cosa si tratta? Vieni Giuliano, tu ascoltami bene Giuliano, ci sei cascato di nuovo Sei proprio un padrone di merda Me ne vado a dormire Vai pure, arriverà il momento della mia vendetta Chi è che mi disturba a quest'ora? Ho sonno Ma... Qualcuno ha anche acceso la luce in corridoio Ma chi sarà? Già, vediamo Oh mio Dio! Giuliano! Che ti è successo? Fermo! No! 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 Salve a tutti i Blazers e benvenuti in questa nuova mod review Dall'intro forse non si sarà capito tanto Ma questa mod è la mod della malvagità Infatti si chiama Evil Mod Primo passo in questa mod è prendere questo minerale Questo è il minerale base di questa mod Si chiama Dark Core Lo troverete ovviamente in natura Tra il livello 6 e il livello 66 Se ci fosse il livello 666 sono sicuro che sarebbe spawnato anche lì Per cui il primo passo per accedere a questa mod è quello di prenderci un piccone Trovare ovviamente questo minerale Io ne ho messo un po' qui E spaccarlo Guardate che effetto strano che fa Fuma È un minerale malvagio Qualcosa di pericoloso E vedete che ci droppa queste gemme scure Ma anche qualcos'altro E sono stato fortunato che sin da subito mi ha droppato anche questo secondo elemento Perché se queste sono le Dark Gem Questo è il Crushed Dark Gem È la polvere di Dark Gem Ed è un altro elemento che serve per fare dei crafting più complicati che vedremo poi Quindi principalmente quello che ci serve sono queste Dark Gem Ora prendiamo altri elementi Vale a dire una mela Un libro E un uovo di spawn Ovviamente quando sarete in natura non ci sarà bisogno dell'uovo di spawn Ma vi dovrete trovare un animale La prima cosa da fare è combinare la mela E mi servirà una crafting table perché sono in creativa La mela con la Dark Gem Per ottenere la Darkened Apple Notate che c'è scritto Shift for info Perché tutti gli oggetti di questa mod Se voi li puntate e cliccate Shift Vi dà anche una descrizione dell'oggetto Una cosa fighissima In questo caso ti dice Io non la mangerei Magari nutrici qualche animale E infatti noi la prenderemo Andremo a spawnare un maiale E gli daremo in pasto questa mela oscura Come vedete sta perdendo vita E si sta avvicinando alla morte È morto ragazzi E ci dropperemo Come vedete in questo portale che si è creato Ci ha droppato un libro per ottenere questo manuale Vedete che il maiale è morto Ma il suo spirito Siccome è stato ucciso in malo modo È rimasto nel mondo dei vivi Vedete Fluttu è un fantasma E si chiama Vengeance Spirit Perché appunto cercherà vendetta E ci perseguiterà Ma con il suo sacrificio Noi abbiamo ottenuto questo manuale Ora devo tornare a capo Questo manuale descrive ogni cosa nella mod E lo fa accuratamente Addirittura con un pelo di storia Per alcuni oggetti Il problema è che è tutto messo un po' alla rinfusa Quindi dovrò riordinare il tutto Per fare la mod review Come vedete se giriamo le pagine Ci sono tipo l'introduzione E poi delle varie pagine da leggere Fino ad arrivare a il dark ore Che è appunto il minerale che abbiamo appena raccolto Ci dice anche che ci puoi craftare cose Ci puoi craftare un blocco compatto di dark ore Per fare il dark block E poi combinarlo anche con dei brick Per ottenere i mattoni Puoi fare vari elementi decorativi Fino ad arrivare anche a questo blocco Che è molto bello Ma passiamo alle cose più importanti Scorrendo le pagine vedete che ci spiega anche della mela Ci spiega anche che nella mod ci sono questi dungeon E questi templi Che noi vedremo più avanti Perché lo devo ancora cercare Passiamo ora però ai mob Prendiamo le uova di spawning Ragazzi eccoci qui Anche questi oggetti Così poi vi farò vedere bene a che cosa servono La prima pagina ci parla di questa poisonus libell Quindi una libellula velenosa È esattamente questo mob Una gracile libellula con uno di vita Che però insegue il giocatore E anche gli animali viventi E li avvelena essenzialmente Una volta uccisa questa libellula Otterremo questo oggetto Vale a dire la sacca di veleno Con la quale potremmo fare Il bucket di veleno Quindi un intero secchio contenente veleno E possiamo anche usarlo per craftare Le poisonus potato per esempio O la pozione di veleno Quindi questa era la libellula velenosa Il veleno nel bucket È liquido È come l'acqua E se tu ci entri Ottieni un effetto di veleno Come in questo caso Ha ottenuto 5 secondi di avvelenamento Il mob che abbiamo visto nell'intro Il werewolf Per meglio dire in italiano Il lupo mannaro Il lupo mannaro non è quello che sembra Perché in realtà ragazzi I lupi mannari di giorno Si camuffano in mezzo ai villaggi E sembrano dei normali villager Per cui voi potete andare da lui E fare addirittura scambi Con oggetti delle mod Ovviamente quando diventerà notte Quindi mettiamo il tempo a notte Time Set Night Questi villager Mostrano le loro vere sembianze Diventando lupi mannari Ecco anche lui si è trasformato Ovviamente Guardate hanno 40 di vita Quindi sono delle bestie Ti attaccano Logicamente Ti fanno molto male Quando questi lupi mannari Vengono abbattuti Possono droppare Le ossa La carne E la pelliccia Di lupo mannaro E si dice appunto nel libro Che questi elementi Se vengono messi nella crafting table Vengono utilizzati Come normali Elementi Quindi per esempio L'osso ci dà normale bone meal Ce ne dà di più però Rispetto all'osso normale Andando avanti Abbiamo il netherfish Una versione del nether Del silverfish Che è semplicemente Questo cosino E che potrete trovarlo Anche spaccando Dei netherbrick E abbiamo anche L'uovo di spawning Dello spirito Vendicativo In questo caso Un iron golem In questo caso Un villager Potete Anzi una strega Potete sponare Un po' di tutto Anche un magma cube Guardate che figo Il magma cube Con il cuore di lava Al centro Veramente Molto bello Proseguendo Purtroppo il libro Si perde un po' Perché ci dice Della scopa Per esempio Che adesso vi farò vedere O del fatto Che se tu ti mangi La carne umana Oltre a sbloccare L'achievement Cannibale Che è una cosa Fighissima Rischi di morire Avvelenato A meno che non la mangi Di notte Adesso andremo anche A provarlo E poi qui abbiamo Anche degli enchantment Della mod Quindi come vedete Il libro spiega tutto Però in questo caso Inizia a spiegare Un po' a caso Per cui ora Lo abbandoneremo E andremo avanti Per conto nostro Comunque Quello che ci ha mostrato Sono questi oggetti Abbiamo la scopa È una scopa volante Ragazzi Ci possiamo montare sopra Come vedete Sembra di essere In Harry Potter E ci potete volare Semplicemente Non si alza Con lo spazio Ma va Nella direzione In cui voi puntate Vedete Se tipo Voglio alzarmi Devo puntare Verso l'alto E così via È molto comoda Devo dire Ed è molto figa È un oggetto Non craftabile Ma che potete trovare Nei dungeon La carne umana La potete mangiare Sia di giorno Che di notte Di giorno Vi dà avvelenamento Quindi ve lo dico già io Senza che Andiate a provare E rischiare Mentre se la mangiate Di notte E in questo caso Ovviamente Devo essere anche In game mode 0 La mangiate di notte Quello che succede È che vi dà Una serie di bonus Vi dà il potere Del lupo mannaro Abbiamo poi Gli incantamenti Ragazzi Abbiamo Unusing Che è un incantamento Molto utile Ma potrebbe anche Essere fastidioso Se messo su una spada O su un attrezzo Quando l'attrezzo Sarà vicino Alla rottura Non vi permetterà Più di usarlo In modo che voi Non lo rompiate Del tutto Questo è il funzionamento Abbiamo poi Breaking Unbreaking Non è unbreaking È breaking È un incantamento Che è il contrario Di unbreaking E vi fa rompere L'attrezzo O la spada Più velocemente Voi direte Che cazzo me ne faccio Niente È un malus Poi vedremo Poi vedremo anche Cosa vi dà Questo malus Ed è un malus Che in un certo modo Può anche essere risolto C'è poi Lifestealing Che consiste Nel rubare La vita Dagli altri Essenzialmente E quindi Leggendo la descrizione Penso a una cosa Tipo Assorbimento Nei pokemon Quindi tu fai danno E ricevi una minima parte Della vita Che hai tolto E abbiamo poi Pose un tip Che essenzialmente Dà danno D'avvelenamento Quindi avvelena Fatto questo enorme Preambolo Passiamo al cuore Della mod Vale a dire Il sangue Il sangue È un oggetto Al pari della dark gem Molto importante All'interno di questa mod Può essere raccolto Con il blood extractor Che si crafta Con del vetro Una dark gem E delle punte Che si craftano Con dark gem E Lingotto di ferro Logicamente Abbiamo poi il bucket Che servirà ovviamente Per raccogliere Il sangue E sapete già che cos'è E abbiamo questo contenitore Questo tank Che si crafta Con vetro Due lingotte Due dark gem E ci permette Di contenere Il sangue Ora Come facciamo Ad avere il sangue Lo possiamo fare In vari modi Possiamo fare Addirittura Delle trappole Per esempio Questa spiked plate È una placca Quindi si usa Una plate di ferro E delle spine E semplicemente Se un mob Ci passa sopra Subirà danno E perderà sangue Perché appunto Ci sono le spine Oppure possiamo Estrarre il sangue Direttamente Dall'animale Quindi se voi Lo cliccate Con il tasto destro Ecco vedete Che aveva fatto uscire Il suo sangue Questo villager Ci vuole fare il bagno Perché Una volta Ha fatto uscire Questo enorme Questa enorme Quantità di sangue Dalla pecora E guardate Oddio Come collide In modo strano Con l'acqua Vabbè Comunque Lo potete Raccogliere Con il bucket Ora noi siamo In creative Quindi Lo stiamo solamente Togliendo E vedete Che pian piano Defluisce Essendo più fluido Dell'acqua Ci mette di più E comunque Una volta Fatto ciò Il bucket Diventa Un bucket Pieno di sangue Quindi diventa Questo oggetto Qui Un'altra cosa Molto divertente E molto Cattiva È buttare giù Gli animali Dalle alture Per esempio Spawniamo queste pecore Buttiamole giù Loro cadranno E subiranno danno Quando loro subiranno danno E anzi Sono tutte morte Diventando spiriti Vendicativi Perché le abbiamo uccise Creeranno queste chiazze Di sangue Infondendo Il blocco stesso Di sangue Lo potete vedere Dalla cima del blocco Quindi dalle macchie E dal colore stesso Del blocco Che cambia Perché è impregnato Di sangue Ora voi potete Semplicemente Estrarre il sangue Con l'estrattore Per poi riprenderlo Come prima Con il bucket Nel mentre Ovviamente Il tank Così come tutti Gli altri tipi Di contenitori Anche quelli Un po' più grandi Servono per contenere Il sangue Potete addirittura Utilizzare una funzione Di autoraccolta Che in questo caso È disabilitata Ma che attivate Con shift E click Destro Come vi dice Nella descrizione Ora che abbiamo Il sangue Vi chiederete Come lo utilizziamo Allora Il sangue Ovviamente Per questa mod È un importante Carburante Tra virgolette Soprattutto per questi Due attrezze Che poi vedremo Ma possiamo anche Utilizzarlo Per trasformare Le dark gem Per cui se noi Facciamo Un laghetto Di 3x2 Di sangue Quindi 6 blocchi E ci buttiamo Una dark gem Succede questo La dark gem Assorbe il sangue E diventa Una dark power gem Dovete anche sapere Che il sangue Non rimane liquido Sempre A meno che Non stia piovendo In questo caso È sereno E dopo un po' di tempo Se c'è il sole Quindi se non piove Si trasforma E diventa Questo blocco Appunto Di sangue Coagulato Indurito A cui noi Possiamo dare fuoco Per ottenere Questi altri oggetti Che sono frammenti Di sangue Coagulato Eccoci qui ragazzi Questi due elementi Sono elementi Importanti per il crafting E per il crafting Di questi due oggetti Abbiamo quindi ragazzi La Blood chest E la blood Infuser Che è una sorta Di fornace La blood chest Si crafta Con legno E questo Blood infusion core Che a sua volta Si crafta Con la dark power gem E con i frammenti Che abbiamo appena ottenuto Allo stesso modo Il blood infuser Utilizza il blood core Però stavolta Circondato Non da legno Ma da pietra Allora Questi due oggetti Che cosa servono? A che cosa servono? Qui abbiamo Una blood chest La possiamo caricare Di sangue Utilizzando per esempio I bucket O le siringhe piene O quello che volete voi Per esempio Mi basta cliccare Con il tasto destro Con il bucket in mano E quello che fa Ragazzi È una cosa Molto figa Perché se voi adesso Ci mettete dentro Un attrezzo O una spada Consumata Anche leggermente Consumata Verrà Totalmente Ripristinata Al costo Di un po' Di sangue Avete visto Il sangue è sceso E la spada È tornata Come nuova È una cosa Molto figa Ed è una cosa Assolutamente Più conveniente Rispetto all'incudine Che ha un costo In esperienza Con il blood infuser Invece ci possiamo Fare molte più cose Come per esempio Infondere Una dark gem Che inizia un processo Tipo di cottura In realtà È infusione Ma sembra Ricorda appunto Una fornace E cosa diventa Diventa ovviamente Una dark power Gem Eccola qui Quella che abbiamo Ottenuto prima Con il laghetto Di sangue Possiamo fare anche Altre cose interessanti Per esempio Ci mettiamo dentro Questo alberello Dov'è che andava messo Anzi ragazzi Serviva L'arbocello morto Se tu metti L'arbocello morto Vedete che si trasforma Diventerà un undead Sapling Che ci permette Ovviamente Di piantarlo Di farlo crescere Di ottenere L'albero del sangue È una figata Quest'albero Perché per prima cosa Scocciola di sangue Dalle foglie È una cosa molto Molto grottesca E poi ovviamente Possiamo raccogliere Il suo legno Che è Molto bello È originale E che ci permetterà Di craftare Oh Intanto piove Quindi Qua in teoria Sarebbe rimasto liquido Ma è già coagulato Ci permetterà Di craftare Determinate attrezzi Che vediamo qui E che vedremo Tra poco Con il blood infuser Potete fare Tantissime cose Ragazzi Ve le accenno appena Perché se no Il video diventerebbe Di un'ora Però è tutto spiegato Molto bene Dal manuale Quindi innanzitutto Utilizzando le dark power gem Vi craftate questa ciotola Che è unita A due polveri Di dark gem Vi ricordate La polvere Che ci ha droppato All'inizio Il minerale Ecco Quella polvere lì Vi da Questo oggetto Questa ciotola Riempita di Vuote promesse Una cosa Un nome fantastico Tra le altre cose Una volta messa Nel blood infuser Ci permetterà Di ottenere Questa ciotola Di promesse Che può diventare Una ciotola di promesse Che vi da Forza 2 E così via Migliorata C'è anche Vabbè Forza 1 Che è quella Precedente C'è anche Forza 3 In questo caso Va sempre utilizzato Il blood infuser Ovviamente Verrà consumata Ogni volta Un'infusione Di sangue Che è qui Indicata Con il valore Di 5000 E viene anche Consumato Questo oggetto Quindi La promessa Di tenacia 1 La 2 E poi la 3 Che vengono Craftati In questo modo Quindi con Un oggetto Che già sappiamo Con questa Iron Promise E con Uno spider eye E poi via via Con la ender pearl L'occhio dell'end E il blocco Di redstone Questo Iron Promise Vediamo subito Che cos'è Iron Eccoci qui Allora qua abbiamo Gli utilizzi Si crafta Ok Vedete Infondendo Un blocco Intero Di ferro Comunque vedete Che tutto È craftabile Tutto È difficile Però è molto chiaro Potete fare Tante altre cose Come vi ho detto Ve le accenno solamente Per esempio Potete trasmutare Degli oggetti L'occhio dell'end Diventano Tre occhi Di ragno Per esempio L'osso diventa Una verga Questo è molto utile La terra diventa Terra con erba La testa di umano Diventa testa di zombie Insomma Tante cose Molto fighe E io passerei Direttamente A vedere Questo purifier Ragazzi Che è L'oggetto Che ci servirà Per togliere Quel fastidioso Incantamento Vi ricordate Breaking Eccolo Togliete Con questo Oggetto Che si crafta In una crafting table Con delle dark gem Un infusion core Due frammenti Di sangue Coagulato E un dark block Che è quindi Un ammasso Di dark gem Una volta Ottenuto questo Vi craftate E anche Il bluk Che è un gioco Di parole Ovviamente Tra book Libro E blood Quindi Sangue Che viene craftato Come In questo modo Infondendo Un libro Nell'infusion Ottenete Questo Ragazzi Dopodiché Potete Metterlo Qui E potete Utilizzare Questa Postazione Per ripulire Le vostre Armi E i vostri Attrezzi Dagli incantamenti Indesiderati Quindi è un Contrario Delle Centin Table Essenzialmente E a questo Punto Vi voglio Far vedere Alcuni Attrezzi Per esempio La Ender Pearl Di Sangue Che ragazzi Si crafta Con 5 Ender Pearl E 4 Dark Power Gem Questa Ender Pearl è Molto bella Perché Non vi Danneggerà Non vi Toglierà Vita Infatti Adesso Proviamo Andando in Game Mod 0 E tra L'altro Ho solo Un cuore Quindi se Mi Danneggia Muoio Ma come Vedrete Mi Teleporta Senza Danneggiarmi Perché Quello Che fa Invece Di Danneggiare Me E Consumare Il Sangue Di Cui È Riempita Quindi Voi La Potete Riempire Di Sangue E Utilizzare In Questo Modo E tra Le Varie Armi Varie Attrezze Ho scelto Di farvi Vedere Questo Piccone Della Vendetta Che è Molto Bello A fortuna 10 Pensate Un po' E ha Il Malus Di Evocare Spiriti Della Vendetta O meglio Vendicativi Mentre voi Lo utilizzate Ha ovviamente 5 di Attacco Ma quello Non ci Interessa Si Crafta Con Frammenti Di Sangue 3 Diamanti E Il Dark Stick Che si Crafta Con il Legno Che abbiamo Visto Prima Dell'albero Di Prima Due Pezzi E una Dark Gem Quindi Questo Piccone Lo potremmo Provare Vediamo Come funziona Vabbè Qui abbiamo Dell'erba Quindi è un po' Uno spreco Oddio Sono stato Ucciso Sono stato Ucciso Perché ha Evocato Uno Spirito Vendicativo E Fatti E qui In giro Lo Stronzo Ok Proviamo A spaccare La Roccia Eccolo Qui Funziona Molto Bene E ragazzi Considerate Un sacco Di Roba Molto Bella E anche Questa Spada Che Ottiene Looting 2 Quindi Saccheggio 2 Si crafta Con un Dark Stick Due Dark Power Gem E due Spine Che fanno Diciamo Questa Elsa Molto Particolare Infine Ci sono Anche Delle Staff Dei Bastoni Magici Chiamiamoli Così Mi piace Molto Questo Ragazzi Perché L'effetto Che ha È Di Evocare Un' Orda Di Zombie Consuma Sangue Come vedete Quindi può essere Ricaricato E si Crafta Con Delle Dark Power Gem Una Testa Di Zombie O Di Scheletro Di Wither Skeleton Insomma Una Testa Due Spine Un Dark Stick E Quest'altro Oggetto Che Ragazzi Lo Troviamo Subito Eccolo Qui E si Crafta Con 4 Dark Gem Quest'altro Oggetto Che si Crafta Con Un Mucchio Di Roba Insomma Lo Vedete Con La Not Enough Items Di cui La mod Ha anche Il supporto Ufficiale Quindi Funziona Molto Bene Ovviamente Proviamolo Vediamo Cosa fa Lancia Teste Non mi sta Però evocando Gli zombie Perché Forse Perché A giorno O forse Quando Colpisce Lo fa Però Se noi Colpissimo Il Villager Sì Sì Che Figata Lo fa Veramente Voi colpite Il mob E Una volta Colpito Compare Un'orda Di zombie Che Gli Va Dossolo Piccchia E Una cosa Epica E Infine Ragazzi Ho cercato La struttura Di cui Abbiamo Parlato Inizio Video Ma Quanto Pare È Abbastanza Rara Perlomeno Non sono Riuscito A Trovarla Ma Possiamo Ovviare Al Problema Noi Quindi Utilizzando Questo Blocco Che È Il Blocco Simile Al Beacon Che Troverete Al Centro Di Queste Strutture Che Sono Normalissimi Templi Di Pietra Niente Di Particolare Quello Che voi Potete Farci In Queste Strutture Invece È Molto Interessante Utilizzando Questa Bottiglietta Il Contenitore Del Tempo Che Si Crafta Con Una Dark Gem Una Bottiglia Vuota E Un'unità Di Zucchero Potete Andare Dove C'è Il Raggio Gettare All'interno La Bottiglietta E Questo È Quello Che Succede Questa Bottiglietta Ascende Verso Il Cielo Si Carica E Cambia Il Tempo Ragazzi Potete Controllare Il Tempo Del Mondo Anche Modalità Sopravvivenza Ora Come Vedete Il Mondo È Diventato Piovoso Ha Iniziato A Piovere Perché Quello Che Fa Creare La Situazione Di Tempo Inversa Quella Che Quello Che Poi Possiamo Fare È Utilizzare Questo Weather Container Che Si È Creato Da Questo Processo Per Cambiare Nuovamente Il Tempo Quindi Lo Splasciamo La Pioggia Cessa E Possiamo Appunto Controllare Il Tempo E Praticamente Non Lo Fa Più Perché In Questo Caso Riporta Solo Il Sole Quindi C'è Già Il Sole Ma Ci Sono Le Altre Versioni Quindi Questo Ti Fa Piovere Per E Questo Tuoni Se Circondate Questa Bottiglietta Che Abbiamo Usato Un Momento Fa Con Delle Ender Pearl Ottenete La Granata Dei Fulmini Che Può Anche Essere Combinata Con Una TNT Per Creare La Bomba Di Fulmini Allora La Bomba Di Fulmini Quello Che Fa E La Dobbiamo Però Attivare Se No Non Fa Un Cazzo Esplode Creando Un Piccolo Buco Contro Mob Spawn Un Fulmine Appunto Dove Atterra In Qualsiasi Punto E Quindi Ragazzi Questa Era La Mod Della Malvagità E Una Mod Bellissima E Molto Complicata Ma Spero Di Avervi Chiarito Almeno I Funzionamenti Base Della Mod Si Possono Fare Tante Cose Vengono Tutte Spiegate Nel Manuale Forse Ve lo Starete Chiedendo Ma Nell' Intro Come Ho fatto A fare Il Peto Esiste Anche Questa Possibilità Con Tanto Di Achievement Non Sto Scherzando Se Voi Premete P Sulla Tastiera Potete Disabilitare O Abilitare Queste Cose Poco Fini E Quando Poi Voi Shiftate Vedete L'achievement Learn to Fart Che Bello Che Sono Contento Facciamo Tornare Sereno Se No Magari Non Si Vede Bene Mettiamoci Così Esatto Shiftando Fate Questa Cosa Molto Schifosa E Niente Quindi Ragazzi Se il video Vi è piaciuto Lasciate Un bel Like Ci vediamo Settimana Prossima Con Una Nuova Mod Commentate Se Me Ne Volete Consigliare Una E Condividete Il Video Perché È Una Figata Inaudita Questa Mod È Veramente Spettacolare La Trovate In Descrizione Ovviamente Un Saluto Da Iron Blaze Ciao A Tutti Ciao 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 Ciao